Buongiorno e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere molto velocemente il nuovo concorso di Lidl che è il concorso natalizio, si chiama Grande Concorso Deluxe Natale 2022 fino al 27 dicembre 2022. Qui c'è l'applicazione, adesso qua era nella pagina dei coupon ma vi faccio vedere ecco vedete è già partito, sono andata alla Lidl, ho fatto la spesa e ho comprato 5 euro di prodotti di marca deluxe, come volete chiamarli e ogni 5 euro si avrà una partecipazione, infatti vedete che qua dice congratulazioni hai ottenuto una partecipazione, prova a vincere i premi in palio invia la tua partecipazione e inviando la partecipazione sostanzialmente si accettano le condizioni eccetera eccetera, facciamo invia e quindi ho inviato la mia partecipazione. Molto importante, appena entrate nell'applicazione Lidl dovete andare nella home page, scorrere fino alla sezione deluxe deluxe natale e vi verrà fuori tipo accetta, la partecipazione, insomma dovete attivare la partecipazione prima di fare la spesa. Quindi una volta fatta poi la spesa, ritornate sull'app e dovete inviare la partecipazione e praticamente ogni giorno ci sono 20 buoni spesa Lidl da 100 euro e poi qua sotto vi dice quanti giorni è la scadenza, vi faccio vedere su informazioni mi dice appunto qua che ho fatto 3 partecipazioni inviate, qua quanti premi ci sono e qua tutto il regolamento. Ci vado molto veloce, poi maggiori informazioni ci sono estrazioni settimanali a seconda di quando giocate ci sarà una data precisa di estrazione e poi la super estrazione finale entro il 31 il 13 gennaio 2023. Come sempre tenete gli scontrini anche se comunque avete poi le copie digitali ma solitamente vogliono gli scontrini da tenere. Qui avete il regolamento, andatevelo a vedere perché ci sono tutti gli scaioni delle varie estrazioni, tutte le cose da sapere, come ricevere il premio, le solite cose e ok. Già che ci sono vi faccio vedere che appunto ho fatto la spesa se passate la carta prima di fare la spesa, quindi la vostra Lidl Plus una volta finito vi apparirà nella home page, nella sezione premi Lidl Plus praticamente abbiamo il cancello e vinci dove si può avere o uno sconto oppure un prodotto a regalo. Quindi andiamo a cancellare, ok. Ad esempio io qua ho, leggete bene le condizioni, ho il 50% di sconto su uno di questi tè tisane, vale per 7 giorni ma la spesa minima deve essere 5 euro, non è sempre così, a volte c'è un minimo di spesa, a volte no, a volte sono prodotti regalati. Salvate il coupon, mi raccomando, e poi praticamente lo andrete a ritrovare, ecco lo vedete, qui nella sezione coupon, dovete attivarlo nuovamente, ok, e siete a posto.